buongiorno ragazze allora siccome mi sono arrivati questi stampi nuovi questo questo e questo ho voluto subito fare una piccola colata di resina per vedere appunto il risultato so già che è venuto un disastro perché praticamente i colori in realtà sono bellissimi cioè mi piace tantissimo poi ora non rendono bene dal dal video però vedete questo verdino pastellino questo rosino sarebbero anche venuti bene il problema è che li ho fatti usando il colorante bianco per la resina e le tempere i colori ad acqua come si chiamano non mi viene in mente il nome comunque le tempere perché avevano dei colori più particolari rispetto ai coloranti tipo questo verde qua molto bello era un verde scuro ovviamente però diluito con il bianco dei coloranti per la resina è venuto questo bel colore invece questo era una fucsia però non so se lo sapete ma talvolta possono fare reazione gli acquarelli le tempere con la resina a volte sì a volte no con la resina quella indurimento rapido non si possono assolutamente usare con la resina normale si possono usare ma a volte fanno difetto e sono sicura che è quello che è successo qua ma ora andiamo insieme a scoprire quello che è successo allora vabbè togliamo prima questi due che sono semplicissimi guardiamo questi sono venuti sì più o meno c'è qualche residuino di colorante leggero però è molto carino questo questo colore guardiamo anche l'altro ecco questo lo sapevo maledizione c'è venuta una macchetta di colorante che non era ben amalgamato io devo fare sempre attenzione a mescolare bene i coloranti insieme perché sennò mi escono queste cose il problema però era che io ho voluto riciclare il bicchierino che tra l'altro c'ho ancora qua ormai è setto il bicchierino dove avevo mescolato l'acrilico con il il verde l'ho voluto riutilizzare ma c'era ancora qualche vedete qualche questo qua è un pezzettino di colore acrilico che non si è diluito e vabbè sapevo che sarebbe stata una collata tremenda però vabbè l'importante è che gli le prossime colate vediamo insomma allora scopriamo questi che queste gocce secondo me sono bellissime come forma ecco lo sapevo lo sapevo allora questo è proprio l'effetto che ha fatto il colorante acrilico cioè guardate da dietro che sembrava diluitissimo le guardate davanti che effetto ha fatto tipo tutto puntinato cioè che sembra anche quasi carino come effetto sembra tipo un frappè alla fragola un frullato però vabbè lasciando perdere il colore lo stampo è bellissimo guardate che belle gocce cicciotte e soprattutto lucidissime qua ci sono tutte anche le bolle proprio un purpurì di errori però lo stampo mi piace un sacco quindi presumo che anche queste abbiano fatto la solita fine dell'altra vediamo e infatti e infatti eccole qua però ragazze vi dirò che non mi dispiace a me questo effetto che era un effetto assolutamente non voluto ma anche quasi carino se mi mettesse a fuoco forse ecco cioè sapete che proprio non mi dispiace per niente così quasi non le butto le uso comunque ora vediamo questa sarà identica presumo e infatti eccole qua no vabbè dai sono belle comunque hanno questo effetto non lo so perché mi ricordano il frappè certo un frappè azzurro non esiste però vabbè ok quindi probabilmente anche questi saranno venuti tutti così ora questo stampo è più rigido quindi speriamo che vengano fuori perché non voglio piegare lo stampo che poi magari non ritorna infatti tutti così sono venuti va bene però questi stampi sono bellissimi tra l'altro io credevo fossero più più grandi però sono arrivati in questa dimensione cioè probabilmente c'erano anche scritte le dimensioni però nelle foto insomma che che c'erano mi sembravano più grandi ecco questo purtroppo ci è venuta questa macchiettina al centro perché sennò poteva essere comunque utilizzabile va bene mettiamo questo qua questo quadratino questo è l'unico a cui avevo aggiunto dei brillantini un po' cangianti però questo non mi piace era più bello senza brillantini poi vediamo questa forma che è quella che mi interessa più di tutti che è la forma per i rivoli è bellissima bellissima sono troppo felice di questi stampi guardate che bello ovviamente è piatto dietro però che ce frega nel senso io li uso per il soutache e quindi una volta incastonati anzi tornano anche meglio perché dietro poi quando andiamo a rivestirli non c'è la bombatura del rivoli bellissimo guardate questi stampi li ho presi su aliexpress ci sono milioni 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 di rivenditori basta che scrivete silicon mold o jewelry mold questo pure è bello ovviamente c'è da staccarci tutto sto sto eccesso di resina belli belli ok guardiamo i verdini che sono venuti puntinati pure questi vediamo troppo carini questi questi sarebbero carini anche come semplicissimi orecchini a lobo essendo così piccolini ovviamente li sto tirando fuori a coppia almeno dai vieni fuori ok eh sì questi sono proprio carini come semplici orecchini a lobo belli ok guardiamo questi che questa forma mi piace un sacco penso che purtroppo però questi stampi siano un po' troppo rigidi quindi nel senso che tirar fuori le creazioni è un po' un problema bello bellissimo bellissimo davvero questo qua sempre con questo effetto così sono venuti tutti così ormai l'abbiamo capito va bene guardiamo dai dai che ce la fai ok ok per fortuna non sono venuti effetti strani belli dai no mi piace li voglio utilizzare lo stesso perché sono veramente particolari con questo effetto qua certo non è un effetto voluto però sono particolari ok guardiamo gli ultimi due che sono questi due ovalini eccoli pure questo troppo carini no questi stampi sono bellissimi meno male che ne ho presi due cioè ne ho presi due apposta per avere per fare le copie di colore uguale perché se no con le collate diverse di resina poi sarebbero venuti sempre colori diversi bisogna farli contemporaneamente per avere proprio il colore identico perché questa non esce ok ok questo qua è l'altro colore che a dire la verità a questi punti è quello che mi piace di meno rispetto agli altri però vabbè questo è l'altro guarda tiriamo fuori li tiro fuori tutti perché se no viene un video lunghissimo e ve li faccio vedere a coppie quindi ci rimanevano i cuoricini troppo carini anche questi qui questo è un po' da modificarci insomma un po' da ritagliare poi le goccine guardate che carine queste sono veramente piccolissime però sono troppo carine poi i mini mini rettangolini troppo carini cioè le dimensioni piccole sono troppo fighe però in effetti poi magari sono un po' troppo piccole per le creazioni però vedrò cosa posso farci perché questi stampi mi piacciono tantissimo e poi vabbè un quadrattino solitario perché c'era anche questo qua che li avevo fatti insomma con gli scartini ed eccole qua tutte le mie creazioni poche con gli esperimenti praticamente mal riusciti ma chi se ne frega perché ci piacciono lo stesso e niente vi saluto ragazze e ciao ciao